Beh, velocemente, io sono portavoce di un gruppo che è composto da me, da Stefano Tessadori e da un giovane gruppo di professionisti che sono Sara Tessari, Valentina Bigarano e Michele Tagliariol di Mente Locale, a cui un gruppo di queste persone che sono giunte a un'idea comune di città per Pordenone che si fonda sul sistema delle acque del verde che sono palinsesso di segni, tracciati, solchi, depressioni del nostro territorio che ne hanno costituito e ne hanno guidato anche l'espansione e anche la tendenza agli insediamenti produttivi che hanno sfruttato le acque presenti sul territorio. Alcune immagini a supporto di questa tesi e il sistema che dovrebbe in qualche modo collaborare e entrare in sinergia a questo sistema delle acque che è quello della cultura. Pordenone ha investito moltissimo sulla cultura, su eventi e manifestazioni, già è stato detto ampiamente in questa sede stamattina, però l'idea è quella di fare in modo che questi due sistemi che sono il punto di forza della nostra città entrino in collaborazione, appunto collocando tutti gli eventi e le manifestazioni che spesso però sono relegate ai contenitori convenzionali della cultura, quindi musei come si è detto prima che sono molto concentrati anche in una zona specifica del centro città e tentare di distribuirli, di spiegarli, di disseminarli sul territorio sfruttando i tracciati delle acque e quindi mi dispiace che non si veda la presentazione ma fare in modo che la città non sia solo il centro, l'asta del fiume Noncello che taglia trasversalmente la città da est a ovest ma diventi anche un elemento di collegamento tra la parte nord e la parte sud della città che spesso viene dimenticata e invece a cui si rilegano tutti i contenitori più scomodi che nel centro non trovano spazio e quindi appunto fare in modo che lungo questo sistema delle acque si dia anche la possibilità di installare dei percorsi destinati alla mobilità lenta e quindi puntando l'attenzione anche su una mobilità sostenibile a cui secondo me bisogna attendere sempre di più visto anche la realtà contingente e appunto legare come detto la cultura alle acque e fare in modo che Pordenone sia un'impresa di industrie che fanno cultura e che fanno arte e che sono industrie creative e esportare anche questo nuovo modo di pensare alla città e quindi diventare modello anche per le città future non le città future ma l'impostazione delle città future qui appunto una serie di loghi delle diverse manifestazioni che non sono solo non bisogna ringraziare solo gli enti pubblici se queste manifestazioni animano la città di Pordenone ma soprattutto tutte le associazioni e gli enti gruppi culturali che sono fatte di persone quindi bisogna tenere conto anche del fattore umano di persone che ci mettono la propria passione e la dedizione per far sì che Pordenone sia diventata appunto un esempio dal punto di vista culturale grazie